Una cattedrale gremita di sacerdoti, religiose e religiosi, seminaristi, uomini e donne che hanno offerto a Papa Francesco i propri ricordi, fatti di dolore e di tormento negli anni della guerra, ma anche intrisi dello stesso amore di Cristo crocifisso. Il primo incontro del pomeriggio della giornata del Pontefice a Sarajevo nella Cattedrale del Sacro Cuore è stato scandito dalle testimonianze di quanti gli orrori dell'odio li hanno vissuti in prima persona, di quanti hanno superato le incomprensibili efferatezze della guerra con la fede in Dio e con il perdono. Papa Bergoglio, dopo aver reso omaggio a questi martiri dei nostri giorni, ha abbandonato il discorso ufficiale per parlare a braccio e ribadire che un popolo che dimentica la sua storia non ha futuro. E fare memoria non vuol dire intraprendere la strada della vendetta, ma perdonare per costruire la vera pace. Dinanzi a queste crudeltà che ancora oggi si reiterano in tante parti del mondo, il Pontefice ha ricordato che siamo tutti figli di Dio e che tutti possiamo scegliere il bene adottando atteggiamenti di tenerezza, di fratellanza e di perdono. Suore, sacerdoti, vescovi e seminaristi mondani, ha aggiunto, sono una caricatura e non servono, non hanno memoria dei martiri. Vivete un'esistenza degna della croce di Gesù Cristo.